Presento, sono Michele Montatore, faccio parte del trimestre di Specialist ormai da 9 anni e vi andrò a presentare quest'oggi i tre indicatori di bilancio che si devono assolutamente conoscere. I tre indicatori di bilancio che vi andrò a presentare sono rispettivamente il rapporto price earning, il ROE, return on equity e il debito, il rapporto del debito con l'utile, l'utile netto nella fattispecie. Insieme, utilizzati insieme, andremo a vedere che danno un vantaggio notevole nella conoscenza dell'azione che vogliamo acquistare, nella valutazione della stessa. Certo, non sono i soli, ce ne sono tanti altri, però a mio avviso i primi che si devono assolutamente conoscere sono questi qua. Allora, prima di andare direttamente nel webinar, andiamo, mi confermate che riuscite a vedere il sito Finico in questo momento, giusto? Ok, allora andiamo direttamente nella sezione nel cruscotto trading che è necessario, su cui è necessario andare a iscriversi, ovvero andare a abilitarsi nel determinati pacchetti che sono gratuiti, almeno la maggior parte è gratuita, ci sarebbero qualche pacchetto, ci sono qualche pacchetto a pagamento, però il costo viene riportato e siete libri appunto, ci mancherebbe di accettare o meno il costo. Si va sulla sezione Finico, quindi il logo Finico, il mio conto, sulla sinistra, gestione servizi, qui esce la pubblicità, un momento la saltiamo, e mi dice che devo sbloccare, dato che è un conto corrente condiviso, non ho la possibilità. Comunque sia, in questa sezione gestione servizi ci sarebbe il cruscotto trading per abilitarsi direttamente all'interfaccia trading per quanto riguarda i mercati americani, basta solo cliccare su abilita, il servizio è gratuito, quello sui mercati americani, quello sui future, quindi anche italiani, americani, tedeschi, quindi quelli scambiati sull'IDEM, quelli scambiati sull'Eurex appunto e anche sul CME. Qui questa abilitazione sul future anche essa gratuita, io vi consiglio di farlo perché va ad ampliare una finestra che è fondamentale per avere maggiori informazioni nel mondo del trading. I mercati finanziari sono fatti, come sappiamo, di informazioni, maggiori informazioni riusciamo a recepire, migliore è il risultato o almeno in teoria che possiamo ricevere. In questa sezione, che in questo momento non si vede più tardi, vedo di accidere con il mio conto, abbiamo la possibilità anche di abilitarci ai clienti professionali per avere una leva maggiorata sui CFD e anche per quanto riguarda la negoziazione di bond OTC americani o comunque sia bond OTC in generale che sono corporate, per la maggior parte con tagli minimi che vanno sui 100.000 euro. Allora detto questo, andiamo direttamente al nodo della questione. Allora, io ho preparato delle slide che saranno solo esplicative, quindi non hanno nulla di complicato, servono solo a riportare le formule per darvi anche il modo di andare a segnarle. Allora, il primo indicatore, abbiamo detto che è necessario conoscere, è il price earning, ma andiamo per gradi. Il price earning non è altro che il rapporto tra ogni singola azione con il profitto creato da ogni singola azione, ma prima andiamo a ragionare sul prezzo di ogni singola azione. Come è calcolato il prezzo di ogni singola azione. Il prezzo di ogni singola azione, come molti di voi sapranno, è calcolato andando a attualizzare quelli che sono gli eventuali e futuri introiti che la compagnia, la società va a creare. Quindi, se la società stacca dividendi, l'attualizzazione dei dividendi non fa altro che dare un valore, darci un valore, farci ricavare un valore che è disponibile ora, quindi che noi valorizziamo adesso andando appunto a traslare nel tempo, si dice attualizzare in termini matematici, quindi andare a rendere il valore attualizzato che ci dà la possibilità di capire quanto vale, per intenderci, una società che avrà un dividendo annuale di 3 euro ogni anno. Quindi i dividendi annuali vengono attualizzati e ci dà il valore intrinseco. Per andare a aiutarvi con la spiegazione, che può sembrare complessa ma non lo è, voglio andare anche a darvi un'altra sezione del sito Fineco, che non è molto utilizzata, immagino che molti di voi forse non la utilizzano tanto, anche se a mio avviso è fondamentale, ed è piattaforme, learning center, video library, ci sono tutte le pillole, video pillola, che possiamo scaricare. Qui ci sono tutti i webinar che si tengono appunto, quindi anche questo sarà caricato qui. Quindi è molto importante per un neofita che non sa appunto come iniziare, da dove iniziare, qui si può imparare molto utilizzando questa sezione e guardando appunto questi video. Nella fattispecie andiamo su l'educazione finanziaria, il video che vi stavo, a cui facevo riferimento. Solitamente ci mettono, specifico ci mettono 3-4 giorni per caricare i video, quindi non è detto che venga caricato il giorno dopo. Allora andiamo su azione, io ho salvato anche il minuto, non appena mi apre. Vediamo se riusciamo a 1,22. In generale il rendimento di un investitore è determinato dai custi di cassa che il procura di investitore rispetto alla somma di denaro investito. In calco delle azioni, questi custi di cassa sono rappresentati dai dividenti e dal capital gain. Il concetto di rendimento può essere compreso meglio attraverso un esempio. Supponiamo che l'investitore abbia acquistato una donazione al prezzo di 10 euro e che l'abbia venduta dopo un anno a 11 euro. Se durante l'anno l'investitore ha percepito 50 centesimi di dividenzo, il rendimento dell'investimento in rapporto al prezzo di acquisto è pari al 15%. Di ogni investimento è associato anche un numero di... Ok, per farvi, per andare a esplicare quello che è il valore, come si ottiene il valore, a meno, in linea di massima, ripeto, perché ci sono delle formule molto più specifiche, però avere idea e rispondere alla domanda di come è calcolato il prezzo di un'azione, attualizzando i futuri profitti e eventualmente i futuri dividendi, la risposta è corretta. E quindi già abbiamo idea di come si muove il mercato. Quindi come si muove il mercato? Il mercato si muove, come tutti gli operatori del settore sanno, in base al sentiment, in base a quali saranno i futuri utili che una società crea, appunto, quindi l'andamento dell'economia per farla in grandi linee. Il primo indice che andiamo a utilizzare è appunto il price earning, è ottenuto tramite il rapporto del prezzo di ogni singola azione diviso il profitto di ogni singola azione. Il profitto generalmente si considera al netto delle tasse, quindi viene considerato il profitto l'utile al netto delle tasse e viene diviso il numero delle azioni. Quindi è importante. Perché viene utilizzato questo rapporto? Ebbene, questo rapporto viene utilizzato, come vediamo, perché è abbastanza semplice da calcolare ed è immediato da calcolare, per intenderci. Io vado sul sito Fineco, no? Beh, qui ce lo danno direttamente. Come ottenerlo dal sito Fineco? Io voglio andare a concentrarmi su tre titoli oggi nella fattispecie, quindi Ford nel settore automotive. Siamo su Ford, Tesla e Stellantis, per vedere appunto come vengono, quali sono gli indici di queste tre società e come eventualmente leggerli per un eventuale ingresso in scena. Allora, vediamo, questo caso è Ford. Io vado sul rendimenti e dettagli di fianco, c'è scheda completa, scheda completa, ci clicco sopra, ecco qua. Qui praticamente c'è la radiografia di un'azione, di una società più che azione. Quindi di qui ci sarebbero in linea teorica tutti i dati per andare a ricavare quello che è il valore dell'azione di adesso. Quindi come viene calcolata l'azione e via discorrendo. Il Price Earning sotto indicatori economici, prezzo fratto utile, escluso le componenti straordinarie. Vediamo che è 11,32 nella fattispecie. Allora, 11,32, andiamo a vedere come viene calcolato. Anche qui la slide è molto semplice, però rende l'idea, questo è importante. Voglio capire più che altro qual è la vostra concezione del Price Earning e come vi interfaccereste così da capire se siamo allineati o meno. Abbiamo la società A e una società B. Il prezzo dell'azione della società A è 20. Il profitto di questa azione è 1. Price Earning 20. Il prezzo della società B invece è di 10 euro. Il profitto per ogni singola azione è 1. Price Earning è 10. Quindi abbiamo la società A che sul mercato è più cara, è un Price Earning più alto, mentre la società B che è sul mercato è meno cara con un Price Earning più basso. E queste azioni, queste due società più che alto, producono lo stesso profitto per azione. Adesso la domanda che voglio farvi è questa. Secondo voi, qual è il rapporto migliore? Ok, voi siete focalizzati sul rapporto B. Perfetto, questo è il corso che fa per noi. Adesso capiamo. Adesso capiamo tutto. Allora, il rapporto e la società B. Allora, se volessimo inquadrare il mercato come un ente statico, quindi se dovesse chiudere adesso il mercato, sì, avete ragione, la società B è quella perfetta, ma così non è. Il mercato ragiona sempre per proiezione futura. Va sempre a considerare quella che è la proiezione della società nel tempo. Quindi la spiegazione è quale, quindi dove voglio arrivare, mi dirite? Non c'è una risposta corretta tra società A e società B. Dipende innanzitutto dallo studio che viene fratto, dall'approccio che viene fatto e appunto dipende da quelli che sono le prospettive di crescita della società. Perché è chiaro che per avere un price earning più alto, il mercato stima una crescita più sostenuta per la società A rispetto alla società B. Questo è chiaro. Cioè deve essere noto. Se il mercato l'apprezza più cara, non vuol dire che non vale quei soldi. Questo deve essere chiaro. Un altro paio di maniche invece è andare ad avere un price earning nettamente più alto rispetto agli altre società. In quel caso sì, si può avere una sopravvalutazione della società stessa. Ecco perché ci andiamo a concentrare su queste tre azioni adesso. Quindi io vi ho parlato di Ford. Guardate Ford. Voglio andare a inserire anche Stellantis. Rimaniamo sempre sul mercato Nise per non avere distorsioni con i dollari. Ecco il cambio valuta. Allora, quindi qua qual è il fine di questo webinar? Andare a crearvi uno spirito critico. Andare a saper leggere quelle che sono le motivazioni che portano società ad avere un price earning più alto o più basso. E di lì avere la scelta. Dai la scelta. Quindi Stellantis, guardate. Un price earning 4,11. 4,11 al momento. Quindi la metà di quello che è Ford. Ok? Infine andiamo a considerare Tesla. Per capire se come sempre io tendo a farvi delle domande per rendere il corso interattivo. Scusate se vi sentite appunto se vi vado a tediare praticamente. Scusate. Allora, a vostro avviso Tesla, dopo questa spiegazione che ho fatto, quale price earning dovrebbe avere? Più alto, più basso di Ford? Tra Ford e Stellantis? Vediamo. Corretto. Bellissimo. Siamo in linea. Siamo in linea. Perfetto. La maggior parte di voi dice più alto. C'è gente che dice pure 30 trilioni, però mi sembra un po' esagerato. Però ho capito. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo capito la motivazione. E infatti, di fatti, è più alto. Un price earning che è di 40,74. Questo di per sé vi fa capire quanto il mercato apprezza Tesla. Perché apprezza così tanto Tesla? C'è da farsi questa domanda. Ebbene, c'è un signore che la conduce, Elon Musk, che praticamente esce la magia dal cilindro. E quindi, escendo la magia dal cilindro, può creare un'impennata di quelle che sono i futuri utili. Però adesso, se vogliamo rimanere sull'azione, quindi senza andare ad avere speranze, oggettivamente in questo caso Tesla adesso risulta essere un po' danneggiata. Non è un buon momento per Tesla. È uscita dai Magnifici 7. Non è un caso di uscire dai Magnifici 7. Ovvero, i Magnifici 7 sarebbero le sette società più capitalizzate in America. Uscire dai Magnifici 7, perché? Perché innanzitutto non è il leader per la certificazione di auto elettriche al mondo. È stata, avete letto, è stata passata da bid, la cinese bid. E c'è stato anche inoltre un rallentamento, un rallentamento di quelle che sono le richieste di auto elettriche. Cioè, le vendite di auto elettriche non hanno rispettato le stime. Quindi, se avendo un rallentamento, si dice dovuto appunto ai costi che effettivamente sono troppo cari. È motivo per cui, se notate, Tesla tende sempre ad abbassare il margine, quindi ad abbassare i prezzi delle proprie auto. Quindi, detto questo, tornando al price earning. Il price earning, in questo caso, non ci va a dire quanto tempo occorre per avere l'investimento remunerato, tutto l'investimento remunerato. Quello lo vedremo dopo e sarà il ROE. Quello lo vediamo dopo, il ROE. In questo caso, il price earning, il price earning ci dice quanto il mercato, quanto il mercato valuta al momento quell'azione. Quindi, il mercato ha grosse aspettative su quest'azione, praticamente. Un price earning alto vuol dire che il mercato crede che gli utili di quella società corrano in futuro. Questa è la sintesi. Come utilizzare il price earning? Il price earning va sempre, se ci sono delle domande, non vi preoccupate, provvederemo a rispondere per quanto è possibile nelle tempistiche. Lascio appunto una finestra dedicata. Quindi, stavo dicendo, come utilizzare il price earning? Il price earning va utilizzato andando a considerare sempre il settore d'appartenenza. Quindi, come ho fatto io in questo caso, automotive, ci facciamo un'idea del settore d'appartenenza e di lì capiamo se l'azione che abbiamo scelto è sovrastimata, sottostimata, perché sottostimata, perché sovrastimata e via discorrendo. Quindi, in questo caso, io ho comparato Tesla, Ford e Stellantis, che risulta avere il price earning più basso. Perfetto. Adesso il price earning ha dei difetti anche, ovviamente ha dei difetti, se no sarebbe troppo sacile. Andiamo a puntare su quello che sarebbe troppo facile da leggere, praticamente. Quali sono i difetti, le lacune più che difetti, i punti di debolezza del nostro price earning? E perché deve essere sempre accompagnato da altri indici? Consiglio sempre di accompagnarlo da altri indici. Più sono questi indici sempre rimanendo nei limiti, cioè che non ci devono far perdere la bussa troppi indici, perché alla fine troppi indici tendono a creare una distorsione e così non deve essere. Limitiamoci a un numero di indici illimitato, quando appunto non andare a utilizzare 20-30 indici, per intenderci. Allora, nella fattispecie stavo dicendo perché non è impeccabile. Innanzitutto perché c'è uno sfasamento temporale, come dicevo prima, il price earning di per sé associa, va a creare una correlazione tra un prezzo che dovrebbe essere futuro, quindi un prezzo immaginario, se vogliamo. Immaginario è fondato sulle eventuali prospettive di crescita e l'utile, quindi un dato contabile, l'utile dell'anno scorso, comunque sia dell'ultimo anno contabile, in questo caso 2023. Quindi paragonando questi due, vediamo che non è un rapporto molto molto affidabile, appunto in quanto confronta anche fasi temporali differenti. Cioè queste sono le lacune, però sempre considerarlo nel contesto, quindi considerarlo per settore, va a creare un, va a migliorare questo bias. Ok? Allora, il secondo dato, la seconda criticità del nostro price earning invece è data soprattutto dalla possibilità che il management può andare a utilizzare il price earning a proprio piacimento. Andare a utilizzare il price earning a proprio piacimento vuol dire modificare l'utile. Tramite accantonamenti e ammortamenti riesce a modificare l'utile e ottenere il price earning desiderato. Quindi anche lì leggiamo questa sezione del sito che è davvero importante. Queste sezioni sono davvero importanti perché ci danno gli strumenti anche di una qualifica e di valutare lo stesso management. Non è sempre così perché quando ci sono stati, vabbè, in quel caso Buy Beyond, se ricordate, o Wirecard avevano delle lacune del bilancio, però poi lì ci sono stati degli accertamenti anche delle autorità. delle autorità. Andiamo direttamente al secondo indicatore. Il secondo indicatore di cui voglio parlare oggi è il ROE. Il ROE non è altro che l'utile netto sul patrimonio netto. L'utile netto rigavi costi totali. Quindi sul patrimonio netto. Cosa ci dice il ROE o meglio conosciuto come Return on Equity? Sostanzialmente ci dice altro che è una misura, qualcuno di voi lo diceva prima, è questo l'indice a cui si rivolgeva, a cui faceva riferimento, di quanti soldi guadagniamo per ogni euro che investiamo. E di fatti ci dice in quanto tempo avrò remunerato in toto il mio investimento. Perché è una percentuale, è calcolato come percentuale, ma ci dice che se io impegno 10 e l'utile è di 1, vuol dire che il ROE è del 10% e io ci metterò 10 anni per tornare in possesso del mio capitale in toto. Ok? Questa è la spiegazione del ROE. Quindi dove si trova in questo caso il ROE? Il ROE è sempre nella nostra sezione Fineco, sempre andare a rispettare Fineco, è un multiplo di bilancio. Quindi vi faccio rivedere per chi si fosse collegato adesso. Andiamo direttamente di nuovo su Ford, prendiamo sempre quella americana. Ford americana. Però vedete già come va a completare e a mettere un tassello mancante che c'è nel Price Learning in ROE. Ci dice anche quanto tempo ci metto a recuperare il mio investimento. Ci dice anche, ci dà pure un'indicazione temporale di quanto effettivamente, quanto tempo ci metterebbe a recuperare il mio investimento. Quindi come si fa? Su Ford Motor possiamo andare sia su scheda completa di fianco a rendimenti e dettagli, oppure su indicatori. Lo stesso, ci riconduce la stessa interfaccia. Allora, multipli di bilancio, il ROE, il ROE d'esercizio. Qui in questo caso è 10. Non a caso facevo l'esempio prima. Qui è 10. 10%. Viene sempre letto con una percentuale. 10%. Allora, il 10% per quanto riguarda Ford. A vostro avviso, Stellantis e Tesla, quale ROE dovrebbero avere? Quale immaginate che è meglio o peggio di quello di Ford? Il return on equity degli altri due società? Ok. Vi ho fatto la domanda accumulata perché entrambe ce l'hanno, per entrambe il ROE è meglio rispetto a quello di Ford. Ford al momento non è messa benissimo, in quanto ha dati contabili. Ben alla fattispecie, il ROE ed esercizio di Stellantis, l'ex nostra Stellantis, ormai è rimasto ben poco di italiano, è di 24. Quindi, in questo caso, per recuperare il mio investimento ci metto 4 anni, poco più di 4 anni. 24%, 4 anni e io lo prendo. Invece, il ROE di Tesla, guardate, è di 27,94. Questo ci dà un'altra indicazione per andare a qualificare il price earning, perché io personalmente mi sarei aspettato un ROE decisamente più alto per quanto riguarda il Tesla. Giustificato da cosa? Da il price earning, che è il doppio di Stellantis. Ok. Quindi, essendo il doppio di Stellantis, mi sarei aspettato un price earning, mi sarei aspettato un ROE, non dico sui il doppio, ma decisamente più alto, del 50% più alto rispetto a Stellantis. Scusa che non è. Quindi, anche questo può essere un primo indicatore di quanto effettivamente il mercato forse sta sovrapprezzando Tesla, nonostante i cali che ha avuto. Nonostante i cali che ha avuto. Allora, il ROE perché è utile? Ci dice quale è la remunerazione a rischio, badiamo bene, che si intende con remunerazione a rischio. Allora, noi l'investimento lo facciamo se è proficuo, ovviamente. Se no, non rischiamo. E cosa compriamo se non vogliamo rischiare? Questa è una domanda che vi faccio. Compriamo obbligazioni. Obbligazioni, ovviamente, si tendono a comprare obbligazioni risk free. Obbligazioni risk free che possono essere americane o comunque sia obbligazioni tedesche. Quindi che presentano un rischio di default decisamente vicino al nullo. Non dico nullo in assoluto perché la certezza di certo nella vita ce ne sono poche di cose, però ci fa dormire molto, abbastanza sereni la notte. Voi mi dirite, come faccio a calcolare il risk free? Anche dal nostro sito Finico è possibile, il risk free non è altro che, è possibile andare a calcolare da questa sezione. Non voglio andare, diciamo qua. No, vi voglio far vedere, vi faccio vedere anche per, ma l'ho sovrascritta. Allora, il risk free è possibile andarlo a ottenere nella sezione obbligazioni, board center, guardate, curva dei tassi. Solitamente vengono considerate le remunerazioni obbligazionari a 10 anni. Quindi, curva a titolo di Stato a 10 anni è questo e 3,05. Questo non è totalmente risk free perché considero lo Stato italiano. Fidatevi che la remunerazione del task risk free del bond tedesco siamo su 2%, dall'180 al 2%. Quindi, col 2% praticamente è la remunerazione che noi avremmo garantita senza rischiare nulla. Mi ricorrego al RUE. Quindi, perché ci dice RUE quanto io sto andando a remunerare il rischio che ho intrapreso? Non è altro appunto, non ci fa appunto che calcolare il nostro premio al rischio, il RUE. Ok? Perché io sto dando il mio denaro alla società, la società però, considerando il RUE, dall'ultimo RUE sembra che abbia remunerato bene. Quindi, sia più alto del 2% risk free, secondo quelli che sono il settore d'appartenenza risulta essere molto più alto, comunque sia, risulta essere di poco superperformante rispetto agli altri competitor e io scelgo quell'azione. E anche questa è una prima valutazione che si può effettuare con il return on equity, se ci siamo intesi. Ok? Ditemi se ci sono delle... Ricordo che va sempre in percentuale. No, no. Allora, un RUE di 20 significa il 20%, significa che io ho remunerato il 20% del mio capitale in un anno. Quindi, in cinque anni ho remunerato tutto il capitale. Il RUE va letto sempre in base al percentuale. Ok? Allora, detto questo, di farvi leggere appunto il RUE in base al percentuale, detto questo, abbiamo visto anche questa sezione del sito che è molto molto utile. Mi domandate se hanno un tasso maggiore del boom? Sì, però c'è da considerare il tasso di cambio. Io non considero... Se mi devo andare... Se sono un investitore che mi vado a interfacciare al mondo e voglio avere un risk free, del tutto risk free, senza tasso di cambio, e sono in Europa, io considererei il boom, non considererei il treasury. Perché in quel caso bisognerebbe coprirsi dal tasso di cambio. Ci sarebbe un'altra lezione da fare, se non diverse lezioni da fare. Allora, quindi... Quindi... Viene considerato l'anno solare per il RUE. Viene considerato l'utile... Riporto qui la... L'utile netto dell'anno 2023 di un anno T con il patrimonio netto di quell'anno T. Che può essere 2023 e 2022, però solitamente è riportato quello dell'ultimo anno. Ok? Quindi la sezione è come di confronto. Qui abbiamo visto nel settore, abbiamo visto i settori. Io vado a vedere le mie tre società. Vedo che effettivamente Tesla... Scusate. Allora, vedo effettivamente le mie tre società e vedo... Vado a indicare un price earning. Utilizzo il price earning, che mi fa una prima scrematura. Poi vado ad utilizzare il ROE, che mi fa una seconda scrematura. E poi effettivamente già di qua posso prendere una decisione. Vedremo dopo con il debito... Come il... Con il debito... No, e allora... Vediamo dopo con il indicatore del debito come va a completare questo discorso. Allora, quindi se... Per ritornare al discorso del rischio free, se il rischio è il 2%, vuol dire che il rischio free è uguale a 2. Se una società produce sotto il 2, che è il nostro rischio free teorico, l'1,82, vuol dire che... Cosa vuol dire? Sta bruciando utile. Sta bruciando patrimonio. Quindi quella società è da evitare. Assolutamente. Rue negativi sarebbero da evitare. Tranne se... Tranne quando siamo in una società appena nata, appena creata, per cui non si aspettano da subito delle performance inutile. Anzi, i primi anni sono quasi sempre in perdita. In quel caso possiamo accettare un ROE e lì parliamo sempre di alti rischi. Lì il livello di rischio è elevato, perché il ROE non ci fa altro che dire. Più alto il ROE, più alta la remunerazione, ma ovviamente non siamo nel paese dei balocchi, più alto il rischio, più sto rischiando il mio denaro su quella società. Ok? Ecco perché è importante andare ad associare ROE, risk-free, remunerazione e premio a rischio. Quindi il mio premio a rischio più alto è il rischio che prendo, più alta è la remunerazione e appunto più alta è la possibilità che prendo anche una legnata praticamente dal mercato. Allora, detto questo, su quale sezione posso andare ad utilizzare il ROE? Andiamo su azioni, stock screener, guardate, c'è questa possibilità sul nostro Cetofineco. Ecco esatto, 2,29, grazie, 2,29. Mi riportano che adesso il risk-free siamo sui 2,30, quindi il risk-free adesso è 2,30. Allora, quindi abbiamo mercati e trading, azioni, stock screener che è questo. Il nostro stock screener ci dà la possibilità di effettuare una nostra ricerca utilizzando il, andando a utilizzare come filtro direttamente il ROE è il price-earning. Quindi io scelgo un ROE alto, un price-earning alto. Inutile dirvi che i price-earning più elevati ci sono in America ancora. Il price-earning dell'americano è di 27 all'incirca quest'anno. Quindi, se vogliamo dirla in parole proveri, il mercato stima 27 volte gli utili le azioni americane. Questa è una delle letture del price-earning. Allora, quindi, price-earning, metto il Nasdaq, tolgo Futsimib, anche se non mi darebbe risultati. Guardate, le società che rimangono hanno ROE e price-earning elevato. Voglio andare a vedere chi ha un price-earning più alto rispetto a tutti. Vado a spostare ancora di più, a stringere il campo sopra il 100. Vedete, ci sono società con price-earning sopra il 100? Sì che ci sono, sono pure parecchie. Guardate qua, 395 Advanced Micro, c'è anche un Cersus Holding che ha un price-earning che siamo su quasi tre ziri. Quindi ci sono anche società che hanno price-earning, però quasi tutti in America ci sono. Quindi, questo che significa, questi price-earning che significa? Significa che il mercato da questa società si aspetta un boom, si aspetta che gli utili schizzino di lì a breve, si aspetta che effettivamente ci sia un qualcosa di lì a breve. E cosa significa il rovescio della medaglia? Qual è? Il rovescio della medaglia è, come abbiamo visto, come abbiamo visto nelle ultime, come è accaduto, come è accaduto per esempio per, non so se voi avete seguito il caso dello Fresh che ha perso il 30% o poco giù. Comunque sia, cosa accade? Accade che quando poi vengono pubblicati le trimestrali o comunque l'utile dell'anno e non rispetta la crescita prevista, in quel caso il mercato va a rivalutare tutto e ci possono essere correzioni che fanno male, quindi correzioni che molto spesso non ci consentono di recuperare il nostro investimento. Quindi price-earning alto vuol dire alte aspettative, asticelle più alte e se fallisci il fondo è più lontano. Queste sono la sezione a cui fare riferimento, ripeto, azioni, stock screener e poi faccio la mia ricerca. Perfetto. Allora, adesso voglio, per portarvi appunto, per focalizzare quello che è la valutazione è perché non esiste una risposta a è meglio un price-earning più basso rispetto a un price-earning più basso, non esiste una risposta positiva, dipende da cosa stiamo cercando. Se stiamo cercando una società solida che non mi può sorprendere di qua a dieci anni, comunque i suoi utili li può fare come può essere una società legata al al cibo o al che non può avere un delle performance che vanno a valutare sempre senza fattori esogeni, delle performance che superano il che vadano a stabilire il mercato avendo un utile che va a raddoppiare o triplicare di anno in anno. Quindi che sono più prevedibili, il gioco è lì, essendo più prevedibili il mercato riesce a stimarlo meglio, quindi ha un price-earning più basso. Sì, esatto, può essere anche l'interesse del titolo. Quindi, andando a portare su carta quello che vi ho detto, abbiamo un'ipotesi, le due società di prima, il prezzo dell'azione A è 20, abbiamo detto, però adesso ipotizziamo che la società A effettivamente riesce ad avere una crescita dei ricavi del 10% ogni anno, mentre la società B la crescita dei ricavi è solo pari al 5%. Quindi già di qua capiamo perché la stimava 20 il mercato invece di 10, lo capiamo. Andiamo a vedere i risultati dopo 10 anni quali sono. Dopo 10 anni, sempre ipotizzato la crescita dei ricavi costante negli anni del 10% e mentre la società B è costante nel 5%, guardate, il prezzo dell'azione della società A è salito a 47,20 e l'utile per azione a 2,36. Il price-earning rimane 20, però io dopo 10 anni ho più che raddoppiato il mio investimento sulla società A, avendo un rischio maggiore. Ripeto, price-earning alto molto spesso vuol dire maggiore rischio. Mentre la società B invece, che comunque abbiamo dato, ha performato, perché avere una crescita dei ricavi del 5% non è una brutta performance, anzi, vabbè, c'è sempre da considerare l'inflazione, però in questo caso consideriamo un'inflazione fissa, senza stravolgimenti. Guardate, il prezzo dell'azione è passato da 10 a 15 e l'utile per azione da 1,55. Price-earning di 10, guardate, abbiamo appunto, sì, abbiamo fatto il 50% in 10 anni, però con l'altra abbiamo fatto più del doppio. E questa slide ci dice anche che la società A ha un ROE più alto rispetto alla società B, quindi il return equity più alto, maggiore aspettativa del mercato, maggiore aspettativa del mercato. Se sono rispettate quelle aspettative, sono ripagate. Il trucco, e voi mi direte, hai scoperto l'acqua calda, è capire quando è quando c'è la possibilità che quelle aspettative siano rispettate o meno. E già questi indici, ce lo dicono, cioè già conoscere questi indici ci fa capire quando possiamo andare, quando possiamo scegliere un'azione rispetto a un'altra, o comunque sia perché sceglierla. Il terzo indicatore invece da tenere presente è il debito sull'utile all'ordine di interessi, tassi e ammortamenti, sarebbe il margine operativo praticamente. Il debito netto fratto margine operativo, alcuni di voi possono considerare anche l'ebit, io preferisco l'ebit da debito netto appunto, come si ricave il debito netto e adesso andiamo a chiudere il cerchio. Perché mi sono focalizzato sul debito netto? Semplicemente perché il debito netto in questo momento è importante, perché la riminorazione degli interessi è alta, l'inflazione è alta, se mi devo indebitare pago un caro costo, un carissimo costo, quindi evito di indebitarmi. Quindi io devo, io investitore, cosa devo fare? Devo capire dove, se è una società indebitata o meno, quindi tornando alle nostre tre società, settore automotive, tornando alle nostre tre società, guardate, abbiamo Stellantis Ford, guardate Ford che siamo già qui, il rapporto debito netto che è 109, 109 milioni e i milioni, sì, su ebit da su 18. Allora, vi dico che il rapporto per essere giudicato qualitativamente buono deve essere sui 2,5, non di più. In questo caso, in questo caso abbiamo 6, quindi in questo caso il rapporto tra debito netto 109 e ebit da è 18, 109 e 18 siamo sui 6, prendiamo la calcolatrice, ma fidatevi, è 6. Quindi è più alto, io ve lo dico 2,5 è una, viene molto utilizzato anche a prescindere dal settore, se è super 2,5 accendiamo una spia, perché il debito su quella società è molto alto, ci sono rischi che non riesca a pagare, comunque sia, che vada a erudere il pagamento degli interessi, troppo, che vada a erudere troppo quello che è l'utile. Difatti, non a caso, abbiamo visto che la Ford è quella con un RUE inferiore, RUE inferiore anche dovuta a questo. Il 2,5 è inteso sempre come rapporto tra il debito netto e l'ebitda. L'indebitamento netto viene calcolato perché viene considerato tutto il debito della società, meno il flusso di cassa, comunque sia la disponibilità liquida che ha. Se è positiva, vuol dire che è indebitata e quanto è indebitata e ne riportata. Stellantis invece, andiamo a vedere, Stellantis invece abbiamo un debito netto, guardate, sorpresa, è negativo. Negativo in questo caso vuol dire che ha flusso di cassa, ok? Avendo flusso di cassa vuol dire che riesce a pagare tutti i suoi debiti e in più riesce ad avere ancora una disponibilità di cassa. In questo caso, Stellantis risulta essere in questo momento storico, dove avere dei debiti vuol dire avere appunto un pagamento di interessi cospicuo, risulta avere un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. Nei confronti della concorrenza perché deve impegnare meno denaro sul pagamento degli interessi passivi, degli interessi del debito, denaro che può essere impiegato come? Può essere impiegato nel cerchio sviluppo, negli investimenti e via discorrendo. Andiamo a vedere Tesla, Tesla come Stellantis anch'essa ha un debito netto positivo. Debito netto positivo in questo caso, anche Tesla ha una buona gestione, ha una buona gestione, esatto, non a caso Stellantis dà un buon dividendo. Anche Tesla comunque ha una buona gestione del debito, quindi non deve pagare in questo momento storico, dove i tassi del debito sono al massimo, quindi non deve pagare molto utile, non deve remunerare, non deve dedicare molto utile per pagare gli interessi. Ha le mani libere e può dedicarsi ad altro. Adesso voglio farvi vedere, dopo questa spiegazione, guardate quanto effettivamente calza con il grafico, guardate qui, vi faccio vedere prima il grafico di Ford, a molti di voi, comunque mettiamo anche due anni, anzi cinque anni dai. Guardate, si trova una situazione appunto, è lontana dai massimi, a metà dai massimi. Abbiamo analizzato price earning in questo caso, abbiamo analizzato il ROE e l'indebitamento che è molto alto in Ford e comunque a mio avviso è una società su cui non andrei a investire, non andrei a investire tenendo conto di questi tre fattori, o comunque se dovessi investire andrei in fondo con la valutazione e troverei le motivazioni per cui investire. Stellantis invece, guardate qui, che ricordo ha un price earning più basso, vuol dire che il mercato da Stellantis non si aspetta di più, vuol dire che non si aspetta un utile strabiliante, però guardate, in questo caso effettivamente possiamo dire con certezza che il mercato ha valutato male Stellantis. Perché l'ha valutato male Stellantis? Perché non meritava un price earning così basso avendo questa prestazione. Guardate, siamo sui massimi storici, massimi storici, da quando è stata formata Stellantis e non è detto che la corsa si fermi, la questione è questa, ok? Però guardate come tutti e tre insieme completano il quadro, una valutazione che è affidabile, è più affidabile presi singolarmente, invece insieme i tre indici danno la possibilità di avere una valutazione più affidabile, effettivamente rispecchia e viene rispecchiata nell'andamento del titolo. Test invece, price earning alto, i problemi li abbiamo elencati, guardate, si trova un po' in difficoltà al momento. Ok? Ci sono delle domande riguardo? Ok? Allora, perché vado a scegliere il 2,5? La scheda viene aggiornata giornalmente, innanzitutto. Viene aggiornata giornalmente perché giornalmente, guardate qui, c'è il prezzo. Quindi, tecnicamente, giornalmente dovrebbe essere aggiornato, perché sul prezzo vengono calcolati i diversi indicatori, non è il prezzo del momento. Allora, perché 2,5? Perché è stato appunto andato a considerare che il debito con questi tassi di interessi sono stati analizzati, appunto, sono state effettuate diverse valutazioni ed è emerso che effettivamente risulta essere facilmente remunerabile, facilmente appunto ammortizzabile, comunque gestibile, un debito che non supera il 2,5 che è l'utile. Quindi, in quel caso, possiamo andare a valutare positivamente il rapporto debito. Poi, ci sono società con questo rapporto superiore. Sì, se vediamo Enel, ha un rapporto superiore, però Enel è già una situazione differente. È un'azienda, appunto, con partecipazione dello Stato, ha grosse quantità di obbligazioni in pancia, obbligazioni statali in pancia, quindi comunque si ha anche delle obbligazioni, emette anche molte obbligazioni e in quel caso il rapporto tra debito netto e debit è più alto. Non a caso, se noi notiamo, quelli che hanno un debito più alto, al momento sono i titoli che più stanno soffrendo sull'istino. Perché, mentre con i tassi a zero, con i tassi bassi, la cosa non era molto sentita. Perché, sì, si può permettere di indebitarsi anche sopra il 2,5 con un tasso all'1%, va bene. Però con i tassi alti, siamo arrivati sul 7-8% per quanto riguarda corporate, obbligazioni che rendono anche l'8%, 9%, pagare il 9% e creare un approfitto che vada a superare il 9% diventa una missione, diventa complicato, diventa molto complicato. Ok? È questo il tassello mancante che ci dà questo indice. Perché gli altri due indici nessuno ci ha elencato la posizione di indebitamento, nessuno. Quindi, usati da soli, ignorano il debito. E questo, in questo momento storico, non è possibile. Un occhio al debito deve essere dato, assolutamente. Ok? Allora, detto questo, se ci sono delle domande, se no vado a puntellare. Ok? Perché? Ah, ecco, sono arrivate diverse domande. Allora, i rapporti, i rapporti medi del settore, io consiglio sempre di farli, ottenerli da me, andarli a calcolare, soprattutto con i mezzi che abbiamo. Con i mezzi che abbiamo, navigando su Inter, si possono cercare su Finico, non è possibile. Su Finico è possibile, però sempre lì, è possibile, utilizzando lo Stock Screener, andare ad avere un'indicazione media del ROE e del Price Earning. Non nomino il rapporto di debitamento, semplicemente perché? Perché ho effettuato una richiesta agli uffici competenti e, appunto, stanno cercando, appunto, di inserirlo nel Stock Screener. Non c'è questo rapporto in questa sezione. Però, guardate bene, se io metto Energia e metto Nasdaq, beh, bene, capire la media del ROE, posso utilizzare, ecco qua, già di qua, ho un'idea, export in Excel, qui sotto, guardate, esporto in Excel il risultato e da Excel basta inquadrarli tutti per avere una media o comunque sia utilizzare una semplice formula. È anche questo uno dei modi per ottenere una media, ok? Eh, sì, a mio avviso è questo quello che preferisco come indebitamento, come indebitamento, come rapporto del debito preferisco questo, sì, il debito netto con le vite da personalmente, perché lo ritengo il più preciso e il più puntuale. Allora, se ci sono altre domande, allora, non posso trattare, non posso andare a trattare, non posso andare a trattare altri indicatori, però chiederò, eventualmente, se è di vostro interesse, andare a fare un altro, di andare a introdurre un altro webinar, eh, per andare a implementare, eh, anche questo, per andare, appunto, a, a, aggiungere nel nostro paniere anche altri indicatori, però questi tre, per, per chi è la prima volta che si interfaccia nel mondo del trading, guardate già dopo questa lezione, secondo me, avete uno spirito critico differente. Quello che mi è premuto in questo webinar, non è tanto dirvi la formula per far, per far denaro, ma avere uno spirito critico e dire, e dire, avere la possibilità di dire, ok, questa azione non mi convince, mi convince sì, ma ha un, a questo, a queste indicatori che non è dentro lo schema, non è dentro il, la media del settore, cioè, solitamente come si agisce? Si utilizza un price earning, eh, si utilizza più che altro un price earning più, eh, più basso nel settore, questo è quello che fanno i, eh, appunto, come voi stessi avete detto in inizio del corso, si utilizza un price earning più basso perché si pensa che il mercato sia sottostimando con l'azione, quindi con l'azione, eh, con l'azione possa avere delle, delle puntate di crescita più alte rispetto al, 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 alla concorrenza, ma qui semplicemente si sta cercando, eh, è sempre questo discorso che si cerca sempre di acquistare un'azione in sconto, quindi a un prezzo più basso rispetto a quello, però teniamo conto che price earning elevati, price earning elevati non vogliono sempre dire, eh, che la società è troppo cara, ma vogliono anche dire la società costa, è di valore e se la vuoi ti tocca pagare, possono anche dire questo. Di fatti se andiamo a vedere il price earning di Nvidia, che molti dicono che sia sotto una bolla, però è una delle società più desiderate, delle azioni più acquistate negli ultimi periodi, anzi se non quella che ha lo scettro. Allora è qui, price earning 74, 73. Quindi guardate, adesso, in questo momento è tipo l'oggetto desiderato, è desiderato da tutti e gli oggetti desiderati si pagano, praticamente. Possiamo leggerla anche in questo modo. Quindi non esiste una verità assoluta. Ok, quindi, detto questo, mi dispiace, non posso andare a aprire un capitolo per quanto riguarda gli altri, altri titoli. Poi capisco, Telecom è una situazione che è un po', diciamo, complicata anche da spiegare, c'è di mezzo, c'è stata di mezzo la Golden Power, adesso ci sta, ci sta cercando di arrivare a una quadra, però la situazione anche lì non è molto, non è molto chiara e limpida. Allora, detto questo, io la terminerei qui, vi ringrazio anche per l'attenzione, spero di non aver dimenticato nulla, con quel focus era su questi tre indici e dovrebbe essere, spero appunto che vi sia utile e vi dia una possibilità di giudicare meglio quello che stiamo comprando. Ok? Vi auguro un buon trading a tutti e buon weekend. Grazie.